Fantastico signori, mi piacevo da bambino e finalmente abbiamo trovato qualcuno che nel T-Day fa le bolle in piazza, fantastico, veramente, sembrano come dei nostri sogni, dei nostri pensieri che mettiamo, guarda, è stupendo, è stupendo. Dov'ospiti italiani? Sì, anche. Da quanto fate le bolle di sapone? Quasi due anni. Come ti è venuta questa idea? Io ho visto un amico fare bolle piccole così, ho pensato che si può fare più grandi. Allora hai studiato il modo con questi bacchetti? Ma io ho fatto questo materiale, tutti i corsi sono. Piano piano, bravo, fantastico, veramente, è fantastico. Tutti i corsi così sei, imparare, imparare, stieni bravo. E' sapone o c'è qualcos'altro dentro? C'è anche qualcos'altro. Ah, è una cosa segreta? Sì. Ah sì, perché non è solo il sapone che lo fa volare. Se vuoi fare anche con solo sapone, ma se vuoi fare... Va via quella! Ma devi metterci un po' caldo. Guardate! Grazie. E sa cosa mettono dentro con il foglio? Oltre a mettere il sapone, ma cosa c'è dentro? Con la sua? Con la sua? Con la sua?